Pronto? Gazzetta del mattino? Qui a casa Paoloni. Il commentatore mi incarica di dirle... ...un momento. Guarda, pensi che questo può andare? Un momento. Qui dice portare vacca che ha assunto forma di coccodrillo. Mamma mia, quanto è difficile stavolta. Abbiamo i minuti contati, vedrai stasera non la vinciamo, la caccia al tesoro. Senti Irene, e se chiedessi m'aiuto a tuo padre? Scusi signorina, cosa dice quel biglietto? Ma lei chi è? Mosè. Mosè? Sono quelle che suo padre ha salvato dalle acque. Ah, lo stanco della vita. Ma lo sa che anche noi siamo stanchi della vita? Ma non ci buttiamo nel fiume? No, peccato. Mi fa vedere quel biglietto per cortesia? Ehi, così chiaro. Perbacco, portare vacca che ha assunto forma di coccodrillo. Semplicissimo, eccola. Vede, vede, vacca, chiaro, che ha assunto forma di coccodrillo. Magnifico, adorabile, divino. Me la presta? Ma certo, gliela presta sì. Vuole che gliela ingarta? Senz'altro, venga. Adesso gliela ingarta subito, venga. Ecco, un pezzettino di carta. A lei. Grazie. Prego. Mi lasci l'indirizzo, gliela mando a casa. Non c'è bisogno. E no, perché io abito qui. Si fermerò molto? Eh sì, sì. Pronto? Gazzetta del mattino? Sono quello di prima. Mi dia il capogronista. Devo comunicare una notizia di estrema importanza. Scriva. Lo strappa la morte e lo mantiene per la vita. Vita, vita. Come uva, vitinia. Materlò. Grazie. 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 Grazie.